La nostra redazione, in occasione del Tg speciale del 6 gennaio, ha realizzato, in collaborazione con lo storico Giovanni Dedonà, un documentario dal titolo Natura spiata, la paziente arte del fototrappolaggio. L'amore della natura è soprattutto il rispetto della natura. Si parte sempre da un punto di vista etico che l'animale va salvaguardato. Noi dobbiamo studiarlo, però non si devono intaccare comportamenti riproduttivi. Il fototrappolaggio naturalistico è una tecnica videofotografica nata ancora nei primi decenni del Novecento, per effettuare studi non invasivi per documentare gli animali selvatici e i loro comportamenti. È molto utilizzata negli studi scientifici di tipo faunistico. Il fototrappolaggio si effettua posizionando una fototrappola in un determinato ambiente. Il soggetto, entrando nel raggio d'azione del sensore, attiva lo scatto fotografico o l'inizio del video. Ho comprato prima una fototrappola e dopo una non era sufficiente, due, tre. Nel documentario si potranno vedere delle immagini in esclusiva realizzate da Lino e Andrea. Controllo la fototrappola e ho fatto per me il video della vita. È entrato dentro il lupo con una preda. Il documentario andrà in onda venerdì 6 gennaio alle 13.05, 19.30 e 22.30 su Telebelluno, canale 75 e sarà successivamente disponibile anche sulla nostra nuova app Dolomiti Live TV e sul sito www.dolomitilifetv.it.